Diventa reporter di e-news, invia il tuo video tramite whatsapp o via mail alla redazione di Faninforma. Decine di balle di paglia hanno riempito la carreggiata della rampa di raccordo che dalla superstrada porta all'A14 a causa del ribaltamento di un camion. Il leso il conducente che intorno alle 7 di questa mattina, per cause ancora da definire, ha perso il controllo del mezzo. Oltre ad aver bloccato l'ingresso in autostrada per circa un'ora e mezza, il camion ha distrutto la segnaletica verticale posta in cima alla rampa di raccordo. Sul posto una gru che ha rimesso sulle quattro ruote l'auto articolato e un trattore per rimuovere la paglia dalla carreggiata caricandola su un altro camion. Le operazioni sono state coordinate dai carabinieri di Fano, mentre la viabilità è stata diretta dagli agenti della polizia municipale. Andrà avanti almeno fino a questa notte l'occupazione pacifica dell'ospedale Santa Croce di Fano, promossa dal consigliere comunale Giancarlo Danna. L'iniziativa, che avrà inizio le 15.30 di oggi, ha raccolto centinaia di adesioni da parte dei cittadini, ma anche dal mondo della politica e dal vescovo di Fano Armando Trasarti. L'obiettivo di Danna è dare un segnale forte che parte dalla nostra città e per denunciare le penalizzanti scelte che la regione Marche sta attuando nei confronti della struttura fanese. Sarà un Carnival Summer Show quello che il 2 agosto invaderà Viale Adriatico, presenti ma senza sfilare i giganti di cartapesta. Questi, posizionati in quattro stazioni nel lungomare Sassonia, faranno da cornice a spettacoli musicali e di danza che intratterranno il pubblico. Non mancheranno anche i Carri dei Pupi, che insieme alla musica arabita e altri gruppi folcloristici, daranno vita ad un'animazione di strada. Il 31 luglio e l'1 agosto, l'appuntamento invece con la Festa dei Cantoni, che quest'anno saranno sette, distribuiti lungo tutto il centro storico. Soddisfatti o rimborsati? È la novità principale della campagna abbonamenti dell'Alma Juventus Fano per la stagione 2014-2015, presentata sabato mattina al ristorante Villa Marina, prima della partenza della squadra per il ritiro di Macerata Feltria. La formula prevede, con un supplemento del costo dell'abbonamento, il rimborso di quest'ultimo nel caso la squadra non raggiunga la zona play-off. Altra novità è il pacchetto Platinum, che oltre all'ingresso alle tribune centrali e all'area hospitality, darà diritto ad alcuni tagliandi per l'iniziativa che mette in palio un'abitazione. Venduti mille coupon, verrà estratta a sorte una casa in via Trave 13. All'estrazione potranno partecipare anche i non abbonati, che la domenica acquisteranno un biglietto a un prezzo speciale di 120 euro. Diventa reporter di E-News. Invia il tuo video tramite WhatsApp o via mail alla redazione di Faninforma.